Case vuote per dieci giorni in via Montandon 13 a Pusiano, dove ieri mattina è crollato un pezzo di soffitto nel bagno di una delle abitazioni, a pochi passi dal cantiere della galleria che consentirà di bypassare il paese. Oggi nuovo incontro in comune per stabilire le prossime mosse. I lavori nell'area riprenderanno domani e verranno conclusi in una decina di giorni, spiega il sindaco di Pusiano, Andrea Maspero. Quindi verrà effettuata una ricognizione prima di decidere come comportarsi. Dal tavolo odierno inoltre continua il primo cittadino, è emersa l'intenzione dell'impresa di effettuare interventi in muratura nelle situazioni più a rischio per consentire alle famiglie di rientrare serenamente in casa. Emessa dall'amministrazione comunale dunque, l'ordinanza di sgombero resterà in vigore una decina di giorni, fino al prossimo sopralluogo sull'agibilità delle case. La situazione non è tanto felice per gli abitanti delle case perché effettivamente qualche danno c'è stato. Anche ieri è caduto un pezzo di plafone, fortunatamente non ci sono stati feriti, non ci sono state vittime, niente. Noi abbiamo dovuto mandare per forza fuori la gente, come mi ripeto prima, per sicurezza. Non vogliamo che capiti qualcosa, anche in comunità, anche in Sassolino, un rotto di un dito, un piede, non deve capitare assolutamente niente. 15 le persone coinvolte dallo sgombero per motivi precauzionali, fra loro anche una famiglia che oggi ha deciso di tornare nell'abitazione. Non torneranno in via Montandon per il momento gli altri quattro nuclei, alcuni resteranno in hotel a Bosisioparini, due famiglie invece hanno trovato sistemazioni alternative.